L'oceano sembra aver conquistato la Terra. La cosa ha senso. I frammenti dell'oceano influenzano l'isola. Già. E il primo si trova oltre quelle rocce. Mostra un po' più di entusiasmo, Igor. Questa è la tua missione. Nel mondo da cui vengo non esiste acqua, solo ghiaccio. Non ci sono cose viscide e puzzolenti. Non esistono erbacce. Chi lo sa cosa si nasconde lì dentro? Una viscina creatura dei fondali! Fatti sotto, mostro marino! Ti abbiamo spaventato! Hai fatto colpo, guardiano dell'oceano? Non si stacca! Smettila di agitarti! Lo prendo io! Screw! Tieni! Non vedo più niente! È solo inchiostro. Ti ha spruzzato per autodifesa. Dobbiamo recuperare il frammento. E tu! Sta lontano da me! Screw! Il prossimo frammento dell'oceano deve essere qui. Nella caverna! Sì! Hai portato il guardiano giusto, Igor. Le caverne sono la mia specialità. Ci siamo! Proprio lì! Caverna allagata. Andiamo via. Eh? Eh? Trek, il frammento è sicuramente lì sotto. I poteri dell'oceano hanno allagato la caverna. Se è così, hai portato il guardiano sbagliato. I rocciosi non galleggiano. Affondano! L'acqua non è la mia specialità per niente. Senti, neanche io sono il campione di nuoto di Gorm. L'acqua è troppo fredda per fare immersioni da noi. Vi avete condotto al premium. Adesso è il mio turno di pescare! Zarnok! Forza Trek! Immergiate! Screw! Questo significa che adesso ha i poteri dell'oceano! Screw! 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 Ah! Sì, sì! Fai il simpatico da un'altra parte. Disgustoso viscido piccoletto, ok? Screw! Ah? Eccolo lì! Il frammento! Visto? Eccolo qui! E qui... È lì! Tada! Che cosa vi avevo detto? O forse non l'ho mai detto, ma nella mia testa di certo ve l'ho detto! Giusto! Ci abbiamo messo solo quattro ore! Calma, calma, fratelli! È il viaggio che conta! Aoki, potresti fare quello che devi fare così possiamo entrare nel santuario? Direi di sì! Wow, mi sembra proprio di fluttuare! Certo, perché stai fluttuando! Forte! Wow, amici! Guardate cosa succede! I frammenti dell'oceano inundano il santuario! Non preoccupatevi, ho tutto sotto controllo! Mi sento totalmente connesso con l'oceano! E con qualunque cosa sia acquatica! Vi potete rilassare! Chi osa disturbarmi? Zotobo! Noi siamo i guardiani dei... Sull'attenti! Cosa? Forza! Ho detto sull'attenti! Signor sì, signore! Il mio nome è Antium! Io sono un guerriero Solark! E mi aspetto ordine nella mia dimora! È tutto chiaro? Signor sì, signore! Il mio cuore è come un'ostrica in un oceano d'amore! Cosa ha che non va questo squilibrato? E perché continua a dimenarsi come una lumaca di mare? Abbiamo portato i frammenti del cuore del... I frammenti sono qui! Io conterrò il loro potere, così potrete portarli al tempio! Fate il vostro dovere come guerriere! Oppure il caos prevarrà! Cos'è successo? Non riesco a ricordare nulla! Mi fa male la testa! Sei stato fantastico! Hai abbracciato una stella marina! Non farei mai una cosa simile! Hai abbracciato anche me! E hai detto anche che sono il tuo migliore amico! Oh! Davvero imbarazzante! Raggiungibili! Chi vi fermerà? La legge is back! La legge is back! Gormiti! Gormiti!